Il mio personaggio è quello del Dottor Cinquegrana e anche di Don Cicillo, sono due personaggi che in qualche modo intervengono nella storia come responsabile di una cura possibile per una depressione del protagonista, insomma si cura l'anima e si cura il corpo con il mio personaggio e mi piacerebbe dire qualcosa circa questa operazione e l'emozione che mi ha procurata. Io sono stato felicissimo di fare questo spettacolo perché partecipo ad una festa meravigliosa, l'entusiasmo della gente, il piacere di fare uno spettacolo che ha un impatto così felice, regalare un po' di serenità, di gioia, è davvero un privilegio per me e io sono contentissimo di stare qui, questo mi piacerebbe che si sapesse, sono contentissimo anche di un'altra cosa perché ho partecipato alla nascita di uno spettacolo, questo spettacolo in qualche modo è stato scritto da Carlo quest'estate per noi e noi l'abbiamo visto crescere, abbiamo visto svilupparsi sotto i nostri occhi, quindi è un'emozione incredibile perché è la prima volta che mi accadeva, un testo scritto, rappresentato, quindi dall'ipotesi di uno spettacolo allo spettacolo, insomma è stata un'emozione fortissima, fortissima. La prima volta che ha letto la sceneggiatura, che cosa ha pensato? La prima volta che ho letto la sceneggiatura ebbe immediatamente il convincimento che ci trovassimo di fronte a una magia, a qualcosa che avrebbe riservato delle grandissime soddisfazioni a tutti quanti, è stato questo l'impatto che ha avuto proprio dal primo momento ed era particolare vedere come tutti gli attori si sentissero coinvolti, a parte il fatto che Carlo ha scritto su di noi, è stato stilato una specie di fotografia che in qualche modo insomma che camminava parallelamente al personaggio, cucita addosso, il vestito addosso diciamo. Ed è stato questo insomma il tipo di emozione che dal primo momento si è impatronito di noi. E poi l'entusiasmo, l'entusiasmo di tutti, andare a lavorare provando una gioia, insomma sono cose che davvero rimangono poi nel cuore, come memoria e anche poi alla fine insomma come senso di gratitudine verso tutti quanti, verso i compagni. Io sono più piccolo, in questo spettacolo sono Vincenzo Pisapia, il figlio di Alberto Pisapia interpretato da Carlo Buccilosso e Valentina Stilla. Ecco il mio ruolo è quello di un po' l'opposto diciamo di mio fratello. Lui è più per la cura, chiamando in causa il dottor Cinquegrana, io invece sono più per la cura familiare di mio padre. Voglio affrontare il suo problema curandolo in famiglia e non chiudendolo in una casa di cura dove poi vengono abbandonati e non viene altro che ha lasciato a se stesso la sua malattia. Con il calore della famiglia penso che sia la cosa più giusta per una persona che ha questo problema mentale della depressione dovuto a scaturità anche da un problema che ha colpito un po' tutti gli italiani, l'Equitalia. È un problema comune un po' a tutti e purtroppo c'è chi prende con la depressione e io in tutti i modi, in qualche modo cerco di aiutarlo. Ci riuscirò? Spero di sì. Mi piacerebbe dire una cosa a proposito, adesso sono messi uno in braccio all'altro, sono due personaggi che in qualche modo in questa mostruosità che circonda il protagonista rappresentano forse i personaggi più umani. L'uno come figlio che partecipa emotivamente alle disgrazie del padre ed è l'unico che forse in qualche modo ha la sensibilità per capire i meccanismi insomma anche quelli mentali ed emotivi. Nonostante poi il carattere comunque scansonato. Sì, infatti, apparentemente sembra questo personaggio un po' svagato, un po' cialtrone, giocatore, un po' acidioso. L'altro invece, il personaggio del Postino è un personaggio di una poesia incredibile perché questo personaggio che viene visto dal protagonista come una minaccia, come una persona che viene lì a attormentarlo con queste cartelle e se la biglia con il poveraccio che in realtà non c'entra niente. E lui nonostante il fatto di essere aggredito mostra una grande sensibilità, è l'unico che capisce la tragedia, il senso di questa disperazione. È un personaggio bellissimo, io ho amato moltissimo il personaggio. Ho perso 5 centimetri. Sono Davide Marotta e devo dire che sono tre anni che faccio parte della compagnia di Carlo Bucci Rosso. Sono felice di far parte di questa compagnia perché è una compagnia, a parte che è una compagnia, siamo tutti amici, siamo una bella spada, una grande famiglia. Ecco, in tutte le famiglie c'è il papà, la mamma, c'è pure il figlio più piccolo. È una compagnia importante, ma non c'erano dubbi perché Carlo li sceglie con molta cura e saggezza tutti gli attori. Questo è un ruolo, anche se sono due uscite, però è un ruolo importante, non esistono grandi ruoli o piccoli ruoli. Non so se me lo dico per accontentarmi, però l'importante è che ne esco bene. Come ha detto prima Gino, è un sarto che ha cucito i vestiti e lui è il vestito più piccolino. Come diceva Gino, è un ruolo importante perché c'è tanta umanità in questo personaggio e si fa sentire il piccolo postino Napoli. Un bacione al RB Casting. Tanti saluti a tutti, a tutti quanti, a questi spettatori di questa rete. Ciao a tutti, forza Napoli!